Io dai documenti dei secretati che pubblico nel libro, pubblico per esempio l'interessamento di Daltz per ogni riunione del Bilderberg a partire da quella del 54, pubblico le lettere di Daltz a Kissinger, pubblico le lettere dei padri fondatori dell'Unione Europea, ma parliamo di lettere originali, lettere che sono negli archivi. Per esempio pubblico la lettera di Churchill a Daltz, a Daltz in cui dice ti ringrazio per portare avanti il progetto di Unione Europea, a sua volta Daltz scrive una lettera a Rockefeller ringraziandolo per i fondi che la Rockefeller Foundation sta dando alla CIA per la creazione dell'Unione Europea. Queste sono lettere che cambiano totalmente qualsiasi narrazione sulla nascita dell'Unione Europea, altro che Bentotene, altro che Spinelli, altro che socialisti in fuga dal fascismo. Le lettere più significative che io pubblico sono quelle anche prese dal Diario Europeo di Spinelli, dove Spinelli confessa di essere dovuto partire per Washington per andare a parlare con i vertici della CIA a cui ha dovuto sottoporre il suo progetto di Unione Europea, lo scrive Spinelli nel suo diario. Ovviamente lui non parla di uomini della CIA perché non lo erano ancora, lui dice sono andato alla Rockefeller Foundation dove mi hanno fatto incontrare William Donovan e Allen Daltz dell'OSS perché erano loro che dovevano aiutarmi a trovare i fondi per il progetto di Unione Europea. Allen Daltz e Donovan diventeranno poi i più spietati capi dell'intelligence americana, quindi capiamo perfettamente che il progetto nasce da lì e ce lo raccontano i padri fondatori.